Voi siete convinti che la lingua in bocca con Silvio Berlusconi vi consenta di calpestare sistematicamente i diritti dei cittadini italiani? Questa maggioranza è la stessa identica maggioranza... Colleghi, per favore, colleghi, onorevole rabbino, onorevole rabbino... La stessa identica maggioranza... La stessa identica maggioranza che oggi nega i diritti e decide la Costituzione quella che sarà e in passato ha negato il futuro alle lavoratrici e ai lavoratori. Allora io vorrei sapere dagli esponenti, tra virgolette a questo punto, del centro-sinistra, come possono non difendere i diritti di coloro che sono venuti a migliaia, a decine di migliaia a firmare sindacalisti, lavoratrici, lavoratori, per vedere difesi i loro diritti. Grazie, grazie, grazie onorevole Capparini, la ringrazio.